Buonasera a tutti, sono Alessandro Ceccarini, basso. Ho iniziato la mia esperienza al Festival Puccini cinque anni fa, con dei lavori pensati per ragazzi, il Pinocchio di Natalia Valli, e poi uno spettacolo, il secondo atto di WM, Caffè Momius, pensato per le scuole, con le scuole, insieme a tantissimi bimbi, cui sono rimasto affezionato, perché, insomma, li abbiamo tenuti a battesimo io e i miei colleghi, insomma, sul parcoscenico, mi ricordo ancora le loro faccine così curiose, impegnate anche nel fare i vari compiti che gli avevano assegnato le maestre. È stata veramente una bellissima esperienza. E da lì è incominciata, appunto, una collaborazione importante che mi ha visto partecipare al trittico del centenario nel Gianni Schicchi, in qualità di Amanzio, di Nicolao, notario, insieme a Bruno De Simone, e poi nel cast, insomma, c'era Elisabetta Zizzo, Danilo Formaggia, Alessandro Fantoni, poi nel trittico ricorda anche dalle arti, insomma, grandi cantanti come Donata d'Annunzio Lombardi, Annunziata Vesti, insomma. Poi c'erano tantissimi altri grandi colleghi, insomma, è stata una bellissima esperienza, Silvana Frolli, insomma, mi ricordo così, insomma, le stagioni del festival sono sempre piene e costellate di tante presenze illustri, quindi ritrovarsi su quel palco che avevo visto fin da bambino, in qualità, appunto, di spettatore, di piccolo spettatore, perché seguivo mio padre, che è stato un artista importante, è un artista, non è passato a miglior vita, è un artista importante, che ha cantato numerose volte al festival, mi ricordo da bambino, io lo seguivo nei camerini, come facevo abitualmente, e poi sgattaiolavo, curioso, nel backstage dei teatri di tutta Italia, insomma, dove lui cantava, e anche attore del lago, ho fatto degli incontri importanti, mi ricordo di essere stato per più di un'ora a parlare con Babbo, con la signora Casolla, però, insomma, abbiamo così condiviso tutto, quindi ho condiviso anch'io le varie cene, i vari momenti conviviali, e poi ho assistito a numerose recite, e ritrovarmi francamente su quel palco così importante, prestigioso, mi ha veramente così... da una parte, certamente, sono orgoglioso, e ho sentito il carico, il peso, l'importanza, da una parte ero come a casa, perché non mi ha veramente creato imbarazzo, ecco, abitualmente, insomma, non sento sul palco imbarazzo, più nella vita, specialmente nel fare i video, che effettivamente è sul parco scenico, perché fare i video non è così semplice, perché poi ti riguardi e dici, ma cosa ho detto? Boh, vabbè, un'altra esperienza fondamentale nella mia carriera, grazie al festival, è stata sicuramente la partecipazione al festival di Savonnina in Finlandia, che è un festival internazionale, molto prestigioso, ho partecipato alla Tosca, accanto a grandi cantanti come il Gazzale, il Todorovic, la Casian, e certamente, insomma, col maestro Veronesi, insomma, che... con cui, insomma, ho collaborato anche fuori dal festival, in produzione, insomma, ho fatto un stabatmate di Rossini, il Requiem di Mozart, mi ricordo a Montecatini, insomma, c'è stata una collaborazione, mi ha scoperto piano piano anche lui, abbiamo fatto musica più volte, devo dire sempre, con grande, insomma, stima reciproca, e soprattutto con il clima positivo. Questo, ecco, un'altra cosa che mi ricordo da menzionare assolutamente, è l'esperienza paciniana, scusa Giacomo, non te ne abbiamo male. No, è una cosa che si integra, non è una cosa che si integra, perché Pacini è, beh, insomma, è stato un compositorio importante catanese, però ha trapiantato a Viereggio, ho dato vita a un personaggio straordinario che è il Ficcanaso, è convitato di pietra, con la regia, insomma, grande Vaccari, accanto a giovani artisti, molto, molto, molto bravi, siamo tutti amici, il nostro gruppo è veramente un bellissimo gruppo. Quest'opera, praticamente, è stata fatta recentemente solo nel giro di Pisa, eccetera, eccetera, in città lirica, diciamo, poi è stato fatto lì a Viereggio la prima volta con i recitativi cantati, insomma, è stata una bellissima esperienza. E poi l'anno scorso io mi sono dato da fare per trovare un altro spartito perché Pacini ci è rimasto tutti nel cuore, ho proposto Maria Regina d'Inghilterra che è stata data per la prima volta a Viereggio, ma per la prima volta dopo tantissimi anni in Italia, abbiamo fatto una ricca selezione dall'opera, veramente è stata anche quella una bellissima esperienza. Poi, beh, sono tanti ricordi, Fanciore del West, l'ho inaugurato l'anno scorso il Festival con Fanciore del West, canta Maria Cioleghina e Alejandro Roie che è un ottimo tenore che ha cantato recentemente anche il Metropolitano con cui ho fatto un'amicizia subito, una persona eccezionale. E poi, beh, la Bohème, la Bohème con Angela Gheorghio, un sogno, francamente mi sembrava di essere un disco una cosa straordinaria perché è un'artista fantastica. Uye, un'altra grande artista che è una persona veramente eccezionale anche lei. E, beh, Stefan Popp che secondo me è uno dei tenori più grandi che abbiamo adesso nel mondo perché è una voce straordinaria e una persona veramente eccezionale. Beh, insomma, sono tantissimi i ricordi che mi legano a Torre del Lago finché appunto vivo penso di essere grato a Giacomo anche se per basso non ha scritto moltissimo, eh. Però quello che ha scritto è molto importante specie per noi giovani bassi. Vecchia Zimarra che è una delle aree più importanti che si porta anche in audizione e non è assolutamente semplice quindi insomma è apprezzatissimo. Vi saluto perché se no il tempo è tiranno e vi ringrazio dell'opportunità mi raccomando venite agli spettacoli al festival è fondamentale la vostra presenza specie in questo difficile momento. Vi ringrazio e saluto tutti gli colori che mi hanno visto e vi aspetto qualora insomma magari come spettatore o come a vedermi non lo so ancora al festival e non dimenticate che la musica è fondamentale per la nostra vita però bisogna sostenerla. Ciao a tutti e a presto.